ciao amici sapete che esiste la dieta anti affaticamento mi stai dicendo che per essere meno stanca devo mangiare sì ma senza buffarti con quello che vuoi segui i miei consigli e lo scoprirai per combattere la stanchezza l'affaticamento e la mancanza di forze bisogna mangiare ma non la prima cosa che capita sbadigliando davanti al frigo anche perché di solito ci si rivolge a zuccheri o snack dolci salati e grassi purtroppo non c'è un super alimento in grado di fornire tutti i nutrienti al nostro corpo quindi l'alimentazione varia è la soluzione meglio se genuina e di stagione banditi dolci confezionati o prodotti da forno benvenuti carboidrati sani come pane integrale pasta di farro cereali in chicchi e ogni tanto dolci fatti in casa siete pronti a scoprire come curare l'alimentazione per combattere la fatica bene se vi piace l'idea mettete subito mi piace e arrivate fino alla fine vi aspetta un regalino carboidrati a pranzo e proteine a cena non è un'alimentazione bilanciata proteine grassi e carboidrati devono essere assunti regolarmente in ogni pasto magari con il piatto unico come consiglio nei miei coaching di salute naturale in questo modo l'energia sarà distribuita meglio durante la giornata l'apporto di grassi carboidrati e proteine deve essere molto equilibrato sapete che i grassi forniscono il doppio di energia rispetto ai carboidrati aiuto ma allora devo mangiare grassi prima della palestra ma no ora ti spiego bene come funziona la questione energia per il nostro corpo il rilascio dell'energia dei grassi è lento mentre quello dei carboidrati è veloce se hai fretta di avere energia per uno sforzo immediato mangia carboidrati se devi partecipare a una maratona prediligi i grassi il nostro corpo consuma prima l'energia dei carboidrati e poi quella dei grassi ma insomma carboidrati zuccheri grassi proteine in sostanza cosa devo mangiare per ottenere energia nell'immediato ebbene prediligere questi cibi frutta secca cioccolato fondente miele barrette di frutta secca sono utili anche centrifugati e spremuta di frutta e tè e caffè senza esagerare ma non trascurare le proteine e i grassi per avere energia a lungo termine bene amici oggi abbiamo visto cosa mangiare cosa no per combattere l'affaticamento e avere il giusto apporto di energia per affrontare gli sforzi fisici commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate le notifiche e il regalino la checklist dei cibi che danno energia e abbattono l'affaticamento vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali